Dalle prime ore dell'alba è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato contro la FAI, Federazione Anarchica Informale. L'operazione denominata Scripta Manent contesta agli arrestati il reato di associazione con finalità di terrorismo e attribuisce agli stessi l'esplosione di tre ordigni. Uno presso il quartiere Crocetta di Torino del 5 marzo 2007 e due ordigni presso la caserma Allievi Carabinieri di Fossano del 2 giugno 2006. Gli ordigni in entrambi i casi erano programmati per esplodere a breve distanza l'uno dall'altro al chiaro scopo di arrecare grave danno all'incolumità delle forze dell'ordine intervenute sul posto. L'indagine dei poliziotti della Digos di Torino attraverso l'analisi di un'enorme quantità di documentazione ideologica ha permesso di ricostruire la struttura associativa e l'evoluzione internazionale della FAI.